Amici di YouTube, buongiorno a tutti, un grosso carico da Sargo, oggi siamo venuti a Pesca, abbiamo messo un paio di palamidi e tra un po' andiamo a recuperare. Abbiamo innescato le goffre con la speranza di prendere qualche bella rata, qualche bel sarago. La giornata è un po' velata, deve essere una giornata abbastanza prunissima. Vediamo un attimino che cosa possiamo prendere, ci vediamo dopo. Amici miei, abbiamo appena recuperato un palamido e devo ammettere che sotto al mare ci stanno delle creature aliene che voi neanche vi immaginate. Abbiamo recuperato questo palamido, abbiamo perso un pesce di dimensioni enorme. Un peccato perché l'abbiamo tenuto fino a quasi sotto la barca, non l'abbiamo neanche visto, però era veramente un pesce importante. Fortunatamente abbiamo preso un altro bel pesce che ora vi faccio vedere, però prima vi volevo far vedere che cosa mi ha risputato il pesce che abbiamo perso. Guardate, un sarago piccolo, fin sotto alla barca, guardate, completamente succhiato. Completamente succhiato, guardate. Comunque diciamo che non ci possiamo lamentare. Andiamo su una splendida aurata. di circa un chile tre, un chile quattro. Peccato per quel pesce che se n'è andato, però va bene così. Ci vediamo dopo. Alla prossima. Amici, amici di YouTube, abbiamo finito di recuperare appena adesso un palamido e abbiamo avuto un paio di ami aperti e veramente oggi è una giornata con pochi pesci piccoli, però qualche pesce che agganciamo è sempre abbastanza grande. Vi faccio vedere che tipo di cattura abbiamo fatto abbiamo preso un bel dentice di circa un chilo e cento, un chilo, un chilo, un chilo e cento abbondante. Una bella creatura. Oggi stanno girando in particolar modo anche i dentici. E poi abbiamo preso... E poi vi faccio vedere che cosa abbiamo preso, amici miei. guardate, una splendida aurata. Una splendida aurata di circa tre chili e mezzo, abbondanti. Guardate che meraviglia. Guardate, ancora viva. Stupenda. Che pesce meraviglioso. Peccato per quel pesce che ci ha scappato che ci ha scappato prima. Quello era veramente un pesce anche sempre di dimensioni notevoli. Guardate come si muove. che pesce. Che pesce meraviglioso. Amici, ci vediamo dopo. Per il momento vi saluto. Un grosso saluto. Ciao a tutti, eccoci qua. Finalmente è finita la giornata di pesca. Sono circa le tre del pomeriggio. da stamattina che siamo in acqua. Ormai abbiamo fatto una giornata piena di pesca. Adesso andiamo... vi faccio vedere le catture che abbiamo fatto. Così vi faccio vedere un po' di pesce. guardate che sarago meraviglioso. Un sarago meraviglioso. Un oratella. un bel dentice. Un bel denticione. Circa due chili e mezzo. un altro oratella. Un altro oratella. Circa quattretti. Mezzo chilo. qualche pesciotto di taglia. Un altro saragotto. due bravolinetti. Un'altra bella orata. Circa un chile tre, un chile quattro. e poi una splendida orata di circa tre chili abbondanti. questo, amici miei, è stato il pescato di oggi. i pesci meravigliosi. i pesci meravigliosi. stupendi. guardate che sarago, amici. un sarago di circa 900 grammi, 800-900 grammi. guardate che belli. cari amici di YouTube, la nostra giornata finisce qui. vi auguro a tutti buona pesca e come sempre di prendere questi splendidi esemplari che veramente ne vale la pena. un grosso saluto da sargo 75. alla prossima. ciao a tutti.